Buongiorno a tutti ragazzi, qui Ardino Schenato da Yardforex.com e in questo video andiamo a vedere l'euro-dollaro e che cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro e quindi a livello operativo come comportarsi così da mostrarvi davvero che cosa faccio quando sono davanti a un grafico e che cosa vado a vedere quali sono magari i fattori che possono crearvi un certo tipo di trading o comunque un certo tipo di azione allora partirei dal grafico dell'euro-dollaro ma guardando velocissimamente proprio il grafico mensile per farvi capire un po' come guardare il grafico nel senso che l'euro-dollaro abbiamo avuto in questa zona qui che è la zona 1.08 negli ultimi mesi un movimento molto molto ampio verso l'alto, al rialzo e quindi questa barra che si è venuta a creare, che si sta creando in questo mese in realtà può non essere per forza una situazione di inversione però insomma quello che si nota è che settembre è un mese di short che potrebbe essere anche come è successo qui dopo il grande rialzo un movimento di ritracciamento durato un paio di mesi e poi la ripartenza quindi tutto è possibile, ovviamente ogni momento è il suo quindi è diverso non è per forza che l'euro-dollaro lì ha fatto una cosa e la deve rifare ancora nello stesso modo quindi noi valutiamo però il fatto che il movimento è stato molto forte negli ultimi mesi e in questo mese c'è stato un ritracciamento di una tendenza long che infatti se prendiamo un grafico settimanale si nota molto chiara questa tendenza è partita appunto nel mese di maggio e poi ha avuto i suoi rialzi tutta l'estate poi c'è stato questo chiaro box con un pavimento di cui ho parlato anche molto chiaro su area 1 di 1760 dove si era formata anche una pinbar sul daily che ho tradato e che ha colpito la mia area di stop loss tant'è che è stato anche molto meglio così visto che il mercato è sceso notevolmente molto di più della mia zona quindi avrei potuto perdere molto di più ecco perché è importante il money management e gestire bene il rischio con rischi piccoli e rispettare gli stop dove si sono inseriti c'è stata una grandissima candela di volatilità come si nota a ribasso che ha rotto un'area importante ha confermato questa che è un inside fake out e che quindi può diciamo nel breve creare ulteriori ribassi diciamo che in linea di massima quindi la mia view sull'euro dollaro parlando di breve termine e io per me il breve termine è operazioni che durano qualche giorno massimo qualche settimana quindi io non sto parlando di intraday che quello è brevissimo termine addirittura proprio ma neanche brevissimo ma è l'intraday trading quindi qualche ora qui voi sapete che io non faccio quel tipo di trading faccio un trading di tipo di multi day di qualche giorno qualche settimana che definisco in modo più semplice un trading di breve termine questo trading di breve termine quindi nell'euro dollaro oggi si potrebbe fare nel momento in cui adesso andiamo a vedere ci sono i presupposti confermati short cioè il fatto che ci sia questa tendenza long è sicuramente interessante ma nell'ottica di breve termine quindi da qui a qualche giorno qualche settimana e voi state guardando il video che esce il giovedì alle 19 io lo sto facendo un paio di giorni prima neanche un giorno e mezzo prima ma non cambia la view quindi il fatto che ci sia eccolo qua questo giornaliero interessante quindi grafico giornaliero che ha rotto questo tapping bar che arrivava in un livello di pavimento molto importante quindi ha violato al ribasso e c'è stata la volatilità che ha continuato al ribasso adesso che cosa si può eventualmente fare allora seppur la mia view nel medio ancora è long perché poi vedremo questa è una zona importante per possibili long io qui voglio mostrarvi come ragiono nel breve quindi nel caso in cui l'euro dollaro ci mostri un ritorno verso 17,60 e non solo tutta questa zona qua è una zona importante di vendita questa qui è una zona sell ok questa è una zona sell quindi per me questa è zona di offerta e questa qui è un livello chiave perché comunque prima c'era stato un'area molto importante che può comunque il mercato dell'euro dollaro risentirla quindi nel brevissimo per me l'euro è da vendere nel caso in cui ci siano quindi questi presupposti quindi un ritorno verso questa zona sell 17,60 18,50 18,60 e in quella zona lì ci dimostri una conferma short cioè uno dei segnali del mio piano di trading per andare a vendere questo mercato è ovvio che però è importante guardare quello che c'è prima nel senso che mi può anche arrivare un bel segnale short qui ma se ci arriva con una barra di volatilità enorme rialzista in un giorno solo è ovvio che dovrò anche stare molto attento a quello che mi dice questa barra perché potrebbe essere questa qui magari esclusivamente una un ritracciamento di questo forte movimento long e una ripartenza del trend di medio e lungo termine che è quello appunto che dura da qualche mese ok quindi siccome c'è una corrente long di medio periodo dobbiamo stare attenti a come arriva su certi livelli se ci arriva piano se ci arriva in qualche giorno ci arriva in 3, 4, 5, 6 giorni magari inizia anche un pochino a lateralizzare a fare magari un mini soffitto qui no? e poi ci crea il segnale allora è sicuramente interessante anche più in alto no? quindi ci arriva pian piano magari fa un po' così magari inizia e fa questo e ci arriva magari dopo un po' a fare questo va benissimo ok questo è sicuramente un'idea poi ovvio che dovremmo vedere nel tempo ma ci sono le trading room del lunedì che ogni giorno poi andiamo a vedere ci sono le trading room del platinum per chi è iscritto o vuole iscriversi alla scuola platinum ogni mattina dalle 9 alle 10 facciamo le trading room e vediamo operiamo capiamo facciamo questi ragionamenti quindi in ottica di breve termine sto vedendo l'euro dollaro più in ottica short preferirei vedere uno short con magari un movimento di swing high molto chiaro sull'area 17,60 18,50 17,50 18,50 in quei 100 pips se si venisse a creare un input operativo short con ovviamente un movimento precedente quindi una struttura che lo consente è sicuramente molto interessante nell'ottica un po' più di medio termine è ovvio che quello che sto dicendo non va bene nel senso che abbiamo un trend di medio termine invece più long quindi quello che è avvenuto adesso non si può ancora identificare come un'inversione di tendenza e il fatto che si possa ritornare in un'area come quella dei l'1,14 per dirci 1,13,70 e duplico anche e anche questa zona qui che passa per diciamo l'1,12 non è sicuramente un qualcosa di impossibile ecco che quindi diciamo che se dovessi avere una conferma di segnale e di quindi setup operativo coerente col mio piano i livelli li vedete cioè 15,75 è la prima area che in passato aveva fatto ci ha mostrato domanda 15,70 si può anche portare un po' più giù 15,50 sono sempre delle aree quelle che guardo io quindi se su questa zona avvenisse un certo tipo di input long bisognerebbe stare attenti però l'obiettivo è quello tra 1,14 e 1,12 lì potrebbe essere un vero ritorno dell'euro e l'euro da lì potrebbe creare anche l'idea di ripartenza questo ovviamente magari ci vorrà qualche mese quindi ritornando al nostro mensile si parla vedete magari di una barra così questo mese e magari il prossimo mese un'altra barra ribassista e il mese successivo un ritorno dei compratori e qui alzo le mani perché le analisi di lungo periodo non mi piace farle perché è sempre poi un po' enigmatico non è facile invece in qualche giorno quando di settimana in settimana guardiamo il grafico e cerchiamo di capire quello che è avvenuto e quindi quello che può poi dirci il mercato di giorno in giorno è sempre più più facile nel nostro nella nostra operatività di tutti i giorni quindi per cercare di essere costanti quindi seguiamo l'euro dollaro io per quanto mi riguarda seguirò l'euro dollaro nel breve più short in quella zona lì avete capito i motivi con un'idea che l'obiettivo nel prossimo mese e mezzo quindi da qui a un mese o un mese e mezzo l'euro dollaro possa essere ritornare in area 1,14 poi se avrà più debolezza può anche arrivare in area 1,12 da lì poi staremo a vedere però al momento la rottura che ha fatto il tipo di dinamica che ha fatto su settimanale quello che ci sta dicendo è quello che io credo ci possa essere un ulteriore affondo dei prezzi un ulteriore ribasso e quindi guardarlo in quest'ottica spero che questo video vi sia piaciuto vi possa essere utile anche nella vostra operatività non solo per questo ma in generale per cercare di guardare i grafici con calma pianificando cercando di capire la figura del grafico più grande al grafico più piccolo sapendo che il time frame non esiste ma ci serve più che altro per delineare quello che è avvenuto di settimana in settimana di giorno in giorno vi chiedo di lasciare un bel like mi piace al video se vi è piaciuto ovviamente di iscrivervi se ancora non l'avete fatto attivando la campanellina cosicché da ricevere le notifiche ogni volta che facciamo dei nuovi video io vi saluto vi aspetto al prossimo video e una buona giornata ciao a tutti ciao a tutti